ciao ragazzi e benvenuti sul canale eccoci nel mio garage e adesso andiamo a vedere come cambiare gli ingranaggi per ottenere i vari passi per filettare il mio tornio è il multitec 800 di azienda da amato macchine ma questa procedura è più o meno la stessa per tutte le macchine senza scatola norton una volta aperto il portellone abbiamo la zona ingranaggi e poi una tabella analizziamola un attimo nella parte sinistra abbiamo due figure di come sono nominati gli ingranaggi la parte centrale numerata descrive i passi che possiamo avere in modalità filettatura mentre la parte destra ci mostra i passi in tornitura in modalità automatico quindi una volta inseriti gli ingranaggi possiamo tornire attivando la leva per l'avanzamento automatico mentre l'altra attiva la modalità filettatura ritorniamo alla nostra tabella adesso ho deciso di impostare un passo in filettatura di 1,5 mm quindi in metrico dalla tabella vedo che ho due gruppi di passi cioè m uguale 24 n uguale a 60 dove abbiamo i passi un po più piccoli mentre il gruppo m uguale 28 n uguale 35 ha gli stessi passi del primo ma raddoppiati io ho deciso di scegliere il primo gruppo e adesso vado a posizionare gli ingranaggi aiutandomi con le figure sulla tabella quindi qui metto l'ingranaggio con 24 denti e lo chiudo bene con il suo dado mentre sulla posizione n metto l'ingranaggio con 60 denti e poi metto lo spessore ok gruppo impostato e adesso andiamo impostare il passo dalla tabella abbiamo che a deve avere 30 denti b 36 denti c 42 denti e di 28 denti quindi prendo l'ingranaggio da 30 denti e lo metto sulla posizione a che è questa e blocco tutto con il suo seger sulla posizione b metto l'ingranaggio con 36 denti l'ingranaggio con 42 denti lo metto sulla posizione c e per ultimo metto l'ingranaggio con 28 denti sulla posizione d dopo aver messo i seger sulle due parti mancanti unisco gli ingranaggi della posizione c e d e poi blocco il tutto per bene e come ultima operazione unisco gli ingranaggi a e b avendo cura di ingranarli per bene e poi blocco il dado molto saldamente eccoci qui abbiamo messo gli ingranaggi nelle loro posizioni e di solito per vedere se va tutto bene faccio ruotare a mano un po tutto quanto non ci sono problemi e possiamo chiudere il portellone e iniziare a lavorare bene ragazzi questo era un video veloce su come cambiare i passi e quindi gli ingranaggi e prossimamente vi farò vedere come filettare come fare i filetti sinistri e vi farò vedere dei piccoli accorgimenti su come ottenere un buon filetto intanto vi ringrazio per la visione vi invito a iscrivervi e a condividere il video perché aiuta tantissimo il canale e come al solito noi ci vediamo al prossimo video